Oggi c'è quasi lo sprint finale, lo chiamo, della Sardinia Code Week, che è una nove giorni che abbiamo organizzato noi di Sardegna 2050 con Open Campus Tiscali, portando qui in Sardegna un'iniziativa europea, che è la settimana europea del coding, della programmazione informatica. Abbiamo organizzato in tutta la Sardegna 38 laboratori gratuiti di programmazione in 10 città, da Alghero a Cagliari, passando per Sassari, Nuoro, Dorgali, Lelenco Tutte, Calagonone, Assemini, Arborea, San Luri, Quartus Sant'Elena. Oggi abbiamo il convegno, in realtà la settimana si conclude domani, però oggi abbiamo il convegno sulle competenze digitali che direi è un po' il simbolo di tutta questa iniziativa, per aiutare i cittadini sardi a migliorare le loro competenze digitali. Questo era l'obiettivo. Se dovessi fare un bilancio di questo giro in Sardegna? Ok, allora se dovessi fare un bilancio, innanzitutto guardo cosa è successo l'anno scorso, che abbiamo iniziato con la Cagliari Code Week e c'erano 15 laboratori più un convegno come quest'anno. e quest'anno abbiamo fatto il salto, l'abbiamo spalmata un po' in tutta la Sardegna, cercando di integrare nord, sud, est, ovest e ci siamo riusciti. Quest'anno siamo a 38 laboratori, come diceva Raffaella, più il convegno non proprio di chiusura, perché la settimana si concluderà domani. I partecipanti, sia l'anno scorso che quest'anno, o chi ha partecipato ai laboratori, sono stati tutti abbastanza contenti, abbiamo avuto dei buoni feedback. Questo vuol dire che c'è bisogno latente e le persone vogliono, si stanno avvicinando a questo mondo. Quindi a mio avviso ho un bilancio abbastanza positivo. Invece come hai trovato le scuole in cui siete entrati? Cioè, a parte la ricettività, lo stato proprio delle scuole. Allora, è sorprendente che sono più attive di quello che pensavamo. Quindi ci sono tantissime iniziative, da tanti anni in realtà, non è una cosa solo degli ultimi anni, ma in alcuni casi si parla proprio di 20 anni, di professori, chiamiamoli smart come si chiamano adesso, diciamo un po' più attenti ad aggiornarsi costantemente, seguendo anche i trend tecnologici, quindi adattando anche la didattica alle tecnologie, a quello che possono offrire. Le abbiamo trovate più pronte di quello che pensavamo, solo sono ancora troppo macchia di leopardo, questo è il punto. Infatti l'idea del convegno di oggi è comunque di dar voce di più alle scuole virtuose, metterle in contatto con la regione, metterle in contatto con l'università e con le imprese, in modo tale che tutti si parlino, questo è il senso del convegno di oggi. Come ve la immaginate la Sardinia del 2050? La Sardinia del 2050? Sicuramente è simile a quella di oggi, un po' più digitalizzata, o digitale, come possiamo dire. Io me la immagino così. Io me la immagino piena di persone che hanno davvero competenze digitali come chi è del mercato, con una PIA efficiente, che abbia servizi digitali per i cittadini, i cittadini che stanno meglio perché hanno una vita più facile, hanno una sanità più vicina, dei trasporti più efficienti, insomma tutto quello che il digitale potrebbe nel 2050 dare, i cittadini ricevere. Grazie. 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 Grazie a tutti.